salve a tutti benvenuti sul mio canale oggi vi voglio presentare una nuova azienda di filati online con cui ho il piacere di collaborare l'azienda si chiama l'ane di biella coffil filati da collezione si tratta di filati 100 per cento italiani la sede è a mon grando in provincia di biella che è una zona famosa per la lavorazione di lane e di filati pregiati loro inoltre hanno anche un negozio online www.lanedibiella.com vi lascerò il link al negozio nella descrizione del video loro mi hanno gentilmente inviato alcuni dei loro filati e mi hanno anche dato la possibilità di scegliere fra i tanti filati che loro offrono voglio quindi ringraziarli perché mi hanno dato l'opportunità di potervi presentare tutti i loro filati all'interno del sito potete trovare tanti tipi di filati hanno sia la lana pura l'acrilico l'alpaca filati in cashmere cotone la meme stilana quindi veramente un'ampia scelta inoltre hanno anche dei filati in rocca per quanto riguarda i prezzi per quello che ho potuto notare sono veramente dei prezzi ottimi invece per quanto riguarda i metodi di pagamento offrono tutti i metodi di pagamento anche quelli in contrassegno poi per quanto riguarda le spese di spedizione se superate i 50 euro le spese di spedizione sono gratuite un'altra cosa importantissima che voglio dirvi che l'ane di biella dà una grandissima opportunità a voi che mi seguite sul canale infatti loro a tutte voi che siete le mie iscritte offrono uno sconto del 10 per cento sui vostri acquisti quindi prima di effettuare i vostri acquisti quindi prima di effettuare il pagamento andate nel campo codici promozionali e digitate la parola magico scritta in minuscolo così verrà applicato il 10 per cento di sconto questo sconto non è valido naturalmente per i prodotti già scontati questa quindi è una grandissima opportunità che l'ane di biella offre a voi tutte ma adesso andiamo a vedere questi bellissimi filati prima di presentarvi questi bellissimi filati vi voglio ricordare che dei filati che vedrete adesso vi lascerò il link per ognuno di questi filati giù nella descrizione del video questo è il primo filato che vi vado a presentare e questi sono i filati invernali che ho scelto tutti questi filati invernali hanno un 60 per lana e un 40 per cento di acrilico per prima cosa vi presento questo filato che ha delle sfumature bellissime abbiamo delle sfumature che vanno dal bordeaux viola verde veramente molto molto belle questo gomitolone al codice ml 504 al tatto è un filato molto morbido veramente molto bello abbiamo un gomitolone di 100 grammi per 180 metri e abbiamo detto che si tratta di un filato che 60 per cento di lana 40 per cento di acrilico i ferri e l'uncinetto consigliati sono dal cinque e mezzo al sei come vedete un bel gomitolone di questo gomitolone molto bello molto morbido ho preso tre di questi gomitoloni perché voglio farne un bel progetto invernale questo è il secondo filato che vi presento come vedete anche questo ha delle sfumature molto molto belle il codice ml 467 ml sta per misti lana perché come vi ho detto in precedenza si tratta di un misto lana infatti la composizione è di un 60 per cento lana 40 per cento acrilico questo è sempre un gomitolone da 100 grammi per 180 metri ed è abbastanza spesso come vedete infatti si lavora con un uncinetto dal cinque e mezzo al sei con questa nuance ho preso due di questi gomitoloni probabilmente realizzerò una bella sciarpona seguitemi sul canale perché naturalmente ci sarà il video tutorial vi ricordo il codice ml 467 passiamo adesso ai filati più sottili sono sempre dei filati invernali che hanno un 60 per cento di lana un 40 per cento di acrilico ma come vedete il filo è più sottile abbiamo sempre un gomitolone di 100 grammi ma per 350 metri ferri e uncinetto consigliati dal tre e mezzo al quattro di questa nuanza veramente bella infatti abbiamo i colori del mare e il verde veramente stupenda io ho preso due di questi gomitoloni per quanto riguarda il codice abbiamo ml 406 anche questo è un filato invernale ma più sottile come vedete e ha questa fantasia di colori veramente spettacolare questo probabilmente uno dei miei colori preferiti molto molto bello abbiamo sempre un gomitolone di 100 grammi per 350 metri ferri e uncinetto consigliati dal tre e mezzo al quattro il codice colore è ml 404 di questa fantasia ho preso due di questi gomitoloni infine abbiamo questo gomitolone sempre quello più sottile sempre per quanto riguarda i filati invernali il codice colore ml 408 abbiamo sempre un gomitolone di 100 grammi per 350 metri da lavorare con ferri o uncinetto dal tre e mezzo al quattro queste sono delle fantasie molto molto delicate che hanno come vedete queste nuanze dal rosa lilla arancio secondo me questa è una fantasia di colore che adatta proprio a realizzare anche dei progetti per delle bimbe molto bello anche questo colore e ho preso due gomitoloni passiamo adesso alle rocche in quanto all'interno del sito lani di bella potete trovare anche dei filati in rocca guardate questo ad esempio si tratta di un filato in cotone vi vado a dire adesso la composizione per quanto riguarda questa rocca color panna il codice e ct 391 e si tratta di un misto cotone abbiamo 420 grammi per 100 grammi abbiamo 200 metri e questi sono 420 grammi questo filato è composto dal 40 per cento di cotone 30 per cento di viscosa 30 per cento di lino ferri e uncinetto consigliati dal quattro e mezzo al cinque anche questo è un filato molto particolare naturalmente da usare nel periodo primaverile e estivo molto bello anche questa rocca passiamo a quest'altra rocca guardate la bellezza e la fantasia di questa rocca ha dei colori veramente stupendi è un filato veramente molto bello per quanto riguarda il codice di questa rocca abbiamo ct 389 e si tratta di un misto cotone la rocca è di 500 grammi per cento grammi abbiamo 160 metri per quanto riguarda la composizione abbiamo 90 per cento di cotone 10 per cento di lurex infatti all'interno del filato potete vedere che abbiamo questo lurex color oro che rende questo filato veramente molto particolare questo filato si lavora con l'uncinetto dal 6 al 7 quindi è leggermente più spesso è una rocca veramente molto molto bella dalle fantasie spettacolari molto bella anche questa naturalmente vi lascerò giù tutte tutti i link ai prodotti che avete appena visto vi ricordo ancora una volta che l'ane di biella offre a voi che siete le mie iscritte un codice sconto del 10 per cento sui loro prodotti da applicare prima del pagamento nel campo codici promozionali andate ad inserire la parola magico e sarà applicato questo sconto del 10 per cento sui vostri acquisti voglio ancora ringraziare l'ane di biella cofil filati da collezione per avermi dato l'opportunità di presentarvi alcuni dei loro filati naturalmente vi lascerò il link non soltanto al loro negozio online ma anche a tutti i filati che avete visto giù nella descrizione del video e noi ci vediamo per un prossimo video ciao e alla prossima